lo sport in collaborazione con vi diamo un motivo in più per visitare la nuova grande esposizione di pegaso fino ad esaurimento scorte sono iniziati i grandi saldi di mobili artigianali veneti in legno affrettatevi vi aspetta tutta la qualità di pegaso e la convenienza dei grandi saldi la junior casale rispetta il pronostico e supera napoli per 76 a 62 conquistando la dodicesima vittoria stagionale sentiamo le parole rilasciate nel dopogara dal tecnico rosso blu ramondino quando si affronta una partita con i favori del pronostico non è non è mai facile sostenerne il peso per questo volevamo iniziare essere un po aggressivi proprio per per entrare in partita noi e per poter prendere l'iniziativa nella partita di una cosa non avevamo dubbio che napoli avrebbe fatto una partita di dignità di presenza di di cuore ma anche di contenuti tecnici il secondo tempo abbiamo abbiamo giocato con una buona iniziativa muovendo bene la palla in attacco a parte un paio di occasioni nel secondo tempo non mi ricordo tiri forzati sicuramente abbiamo abusato del tiro da tre la difesa di napoli è stata brava a portarci a quel tipo di soluzioni però erano tutte abbastanza aperte finché sono soluzioni che vengono prese da marshall blizzard amato che sono i nostri giocatori che che tirano meglio noi possiamo essere soddisfatti lo sport in in collaborazione con pegaso mobili per sempre strada statale 35 bis dei giovi novi alessandria aperti anche la domenica pomeriggio il meteo in collaborazione con risparmia sulle spese di riscaldamento senza trovarti in mano un pugno di sabbia da punto fuoco trovi 50 stufe caldaia pellet monte grappa in esposizione da 950 euro più iva installazione assistenza tasso 0 sino a 5.000 euro il nord è interessato da correnti occidentali piuttosto tese sole prevalente fino a metà giornata dal pomeriggio aumentano le nubi in prevalenza alte e stratificate più spesse dalla tarda sera su piemonte orientale confini valdostani ma ancora senza piogge punto fuoco vi invita tutti mercoledì dalle 18 alle 19 a un corso gratuito per la manutenzione la pulizia e la programmazione delle stufe a pellet per partecipare prenotatevi allo 0131 89 44 03 il museo di storia naturale giacomo doria di genova fino al 31 maggio 2015 ospiterà snakes mostra dedicata ai serpenti con lo scopo di avvicinare il pubblico al magnifico mondo di questi straordinari rettili nella grande sala delle mostre del museo civico di storia naturale giacomo doria sono allestiti degli speciali terrari che ospitano ben 100 esemplari appartenenti a 50 specie di serpenti provenienti da tutto il mondo vipere cobra mamba boa anaconda e tanti altri serpenti velenosi e strittolatori vi aspettiamo fino al 31 maggio al museo di storia naturale giacomo doria di genova